Ciao a tutti gli ascoltatori di Rani.0, sono Gaia e oggi siamo in collegamento con Marcio Sala, tecnico FISC. Ciao Marcio, benvenuto. Ciao a tutti, ciao Gaia. Marcia, da quanto tempo lavori con i cani? Allora, io ho cominciato nel 94 lavorando presso un centro sinofilo del Montese e dopodiché negli anni il percorso mi ha portato ad aprire la mia realtà attuale che ha finito oggi. In che zona operi? Opero nella zona di Monteprianza, nello specifico ad Arcore, ma copriamo tutto l'interno di Milano e della Lombardia dove ci chiamano. Per quanto riguarda la formazione ci spostiamo in tutta Italia. Che specializzazioni hai? Io sono una specializzazione di educazione nel comportamento e lavoro molto con i canili della Sardegna e della Lombardia per il recupero di cani problematici, oltre poi ad occuparmi di educazione di base e di formazione per educatori sinofili. Hai dei cani? Fai qualche attività con loro? Allora, io ho un cane di 11 anni con il quale ho fatto meetings a tanti livelli, poi per pensione l'abbiamo, ora è tranquillo, si gode la vecchiaia e poi ho una medicina trovata con la quale ci divertiamo. Per concludere l'intervista descrivi con tre parole il tuo lavoro. Il mio lavoro è appassionante, motivante e fantastico. Grazie Marcio per la attività. Grazie a voi. Grazie a voi.